Mattinata intensa per il lavoro di medici, infermieri e volontari al centro vaccini allestito a San Giuseppe di Cassola dove si sono recati gli anziani che dovevano fare il richiamo del Moderna. Nel pomeriggio invece attivo il pala Angarano e così sarà per tutta la settimana, sabato e domenica compresi. Anche in questa giornata praticamente nulla e le defezioni e gli anziani che abbiamo sentito più che mai convinti dell'importanza del vaccino per combattere il Covid. La seconda dose ha fatto il richiamo. La seconda, la seconda. Come è andata? Tutto bene. Lei è convinto di vaccinarsi? Sì, mezz'anno l'ora. Bisogna vaccinarsi, vero? No. Serve? Sì, serve, sì, serve. Bene, bene, bene. Speriamo che questa volta sia come l'altra volta, insomma. Nessuna reazione? Sta bene? No, niente, niente. Senta, è da fare il vaccino? Certo. Secondo lei? Mi sì. È stata convintissima di venire qua? Sì, sì, sì. La prima non ho neanche sentito la puntura. E anche adesso è uguale. Lei è convinta di fare il vaccino? È stata convinta? Sì, sì. È da fare? Sì, 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 sì. Sì, senz'altro. Senz'altro. Non ha dubbi su questo? No. Non vedevamo l'ora di farla proprio. Io almeno non vedevo l'ora di farla. Convinto di essere vaccinato, di farsi il vaccino? Cioè, mi, mi, dire la verità, vero? Se che dico come a me, mi sei vent'anni che non torna a pastiglia. Non vedevo l'ora di farla.